Id'ora vi presento una delle auto più amate ed apprezzate in tutto il mondo Fiat 500, 1200 benzina, spettacolare, del marzo 2018 Auto sempre giovane, fresca, adatta a tutti Una 500 in famiglia ci deve sempre essere Guardate che bella, ma simpaticissima Poi di rosso vivo così da subito allegria Baule adatto a un'auto di queste dimensioni Panchina abbattibile I sedili Intanto belli, intonsi Puliti, freschi, ricamati in questa tonalità, questa fantasia di grigi Cosa spiegare di una 500? La 500 è un'auto semplice È un'auto che funziona sempre, che consuma poco E in questo caso che ha pochissimi chilometri 22.700 Radio Bluetooth Tasto per alleggerire il volante, il city Insomma, ha tutto quello che ci serve Il climatizzatore, una macchina veramente fresca Tutto ciò che serve per ascoltare la musica Vediamo un po' i dati Intanto abbiamo visto 22.700 chilometri Del marzo 2018 1.250 Benzina Fantastica Ovviamente come tutte le nostre auto di 6 marce Chilometri certificati, tagliandi e manutenzioni documentate Venitela a trovare, a provare e a vedere Qui da noi a 6 marce